Don Grosselli era nell'invito però è una persona talmente modesta come Marco Pasqualini che da grandi saggi ascoltano. Grazie naturalmente a tutti. È stato un bel dibattito, veramente. Io non credevo che riuscisse a mettere assieme una cosa del genere. Io avrei una voglia amata un po' da prete, di aggiungere qualcosa di più a quanto ha detto il presidente del CONI quando lui diceva le costruite voi, le interpretate, le migliorate, non fate di troppo miti. Abbiamo abbottuto anche noi i miti. San Vigilio era il mito del martire e non è stato minorizzato adesso che invece che martire era il confessore della fede. Abbattono perfino i miti dei partigiani. Vi pare? Grazie a voi.